Il Bavaglio ai giornalisti è pronto. Nordio lo porterà al prossimo CDM. La proposta di Enrico Costa, approvata dalla maggioranza nel dicembre scorso, diventerà operativa, vietato pubblicare le ordinanze di custodia cautelare. Si tratta di un cambiamento significativo, per cui la legge è stata ribattizzata Bavaglio dall'Ordine dei giornalisti. Il timore principale è che questa norma possa limitare la libertà di stampa. Se il Bavaglio ai giornalisti fosse già in vigore, non sarebbe stato possibile pubblicare alcune informazioni relative a indagini di grande interesse pubblico, come quelle sul caso di Daniela Santachè, sannatrice e impenditrice al centro di un'inchiesta giudiziaria che ha attirato l'attenzione dei media, o quelle relative all'inchiesta Ligure che ha coinvolto l'ex presidente della regione Liguria, Giovanni Totti. Leggete l'articolo completo.